Si chiude con successo la nona edizione di Lucca Classica Music Festival. La rassegna, promossa dall'Associazione Musicale Lucchese e diretta da Simone Soldati, ha proposto anche quest'anno un ricco calendario di appuntamenti. Circa 70 gli incontri e i concerti in programma nel corso della 6 giorni che ha trasformato la città in un auditorium diffuso. Suoni, storie e persone che si mescolano e si trasformano vicendevolmente. Questa è la formula magica della Kermess che ha sorpreso il pubblico con numerosi ospiti di eccezione. Tra loro Elio, di Elio e le storie tese, con lo spettacolo in prima nazionale dal titolo Ma cosa dici quando dici opera? Stefano Bollani e la moglie Valentina Cenni, premiati con il riconoscimento del festival, il maestro Peppe Vessicchio e i fratelli violinisti Alessandro e Massimo Quarta. Siamo contenti perché le presenze, il clima, l'attenzione mediatica a livello nazionale ci dicono questo chiaramente poi faremo un bilancio ancora più dettagliato però ecco è a poche ore di distanza dall'ultimo concerto non possiamo che ringraziare tutti il pubblico che ci ha seguito, la stampa e gli artisti che hanno suonato. Calato il sipario sul Luca Classica 2023 si inizia già a lavorare per il cartellone del prossimo anno che segna due importanti tappe nella storia della manifestazione. Decima edizione del festival e sessantesimo anniversario della fondazione dell'Associazione Musicale Lucchese. Stiamo già lavorando, il livello che abbiamo raggiunto è già alto ma dobbiamo crescere. Vogliamo fare un salto di qualità maggiore e stiamo lavorando per questo. Anche perché tutti coloro che ci sostengono ci sono vicini, ci hanno fatto riallegramenti e hanno già promesso di sostenerci anche per il prossimo anno. Quindi stiamo lavorando già fin da ora con grande impegno e programmazione.